Rimarrà allestita fino a domenica 19 maggio la mostra dell'artista tiatino Antonello Favata su Artemisia Gentileschi, pittrice seicentesca che con le sue vicende umane ed artistiche è ancora oggi considerata figura esemplare e antesignana della lotta per i diritti delle donne e dell'emancipazione femminile. Con questa suggestiva esposizione di dieci opere, realizzate attraverso la costruzione digitale, la pittura d'olio e l'inserimento di vetro di Murano, Antonello Favata, che nel 2017 ha presenziato anche la Biennale di Venezia, intende omaggiare la grandezza di Artemisia Gentileschi. È da un po' di tempo che mi sto dedicando a delle donne del passato che si sono distinte, l'anno scorso con Frida Galo, quest'anno ho portato Artemisia Gentileschi, che è una donna oltre ad essere una grandissima pittrice del valore di Caravaggio, infatti lì è stata anche un'allieva di Caravaggio, ma anche per la sua vicenda personale. Infatti Artemisia ha subito uno stupro da parte di un amico del padre e quindi è anche una donna che oggi ci parla ancora della violenza sulle donne, che è un tema molto molto attuale. Quante e quali opere si possono vedere in questa bottega d'arte della Camera di Commercio? Sono dieci lavori con soggetto appunto, si parla un po' di violenza, di sangue, perché lei ha usato i suoi dipinti per gridare in qualche modo al mondo il dolore, il sopruso che ha subito. I dipinti parlano e gridano proprio della sua rabbia, del suo dolore, sono visibili in tutti i dipinti. Io vengo dal mosaico, dalla scultura, per cui qui c'è un esperimento, c'è pittura e vetro di murano incastonato per dare un po' di tridimensionalità al dipinto. Poi ho creato una piccola scenografia per far immergere il visitatore nell'ambiente del Seicento, con due macchine per la tortura, un baldacchino dove ho immaginato lo stupro subito da Artemisia. La mostra a ingresso gratuito sarà aperta al pubblico fino a domenica 19 maggio nella bottega d'arte della Camera di Commercio di Chieti, soccorso marrucino con ingresso libero dalle 17 alle 21.